Musica Nazionali candidata Daphne Rimaudo, la giovane gelese si presenterà tra le fila del partito liberi e uguali di Pietro Grasso il prossimo 4 marzo. Puntiamo al lavoro per i più giovani e a delle politiche per l'ambiente. Ritardi per l'area di crisi complessa di Gela, la denuncia è delle segreterie di Cigelle Cisle Will, chiesto un incontro urgente col presidente della regione Nello Musumeci. Si registrano disagi infrastrutturali che indeboliscono il livello di attrazione per piccole e medie imprese. Il sapo tra incertezze è precariato, questa mattina i Cobas si sono riuniti per discutere del futuro dell'ente. A breve si è richiesto un incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. E se capitassi a Tia è il titolo della commedia in due atti che andrà in scena al Cineteatro di Machitella a Gela, sul palco la compagnia teatrale Antidoto. Il lavoro per i più giovani è la riqualificazione del territorio con un'attenzione particolare rivolta all'ambiente. Sono questi gli obiettivi che saranno perseguiti in caso di elezione da Daphne Rimaudo, la giovane gelese, la candidata alla Camera plurinominale per il partito Liberi Uguali. La scelta è per garantire e dare un'alternativa a una sinistra che ormai sinceramente come si è visto anche negli ultimi tempi non c'è più. E quindi cercare di portare a casa tutti gli elettori che in qualche modo hanno creduto in una sinistra e sono delusi. Quindi ecco, la Liberi Uguali è l'alternativa giusta a una nuova politica, a una sinistra vera, basata comunque sui principi, sui valori. Quali ad esempio il lavoro che oggigiorno comunque è bistrattato totalmente, non ci sono assolutamente delle garanzie nei confronti anche dei giovani nel momento in cui vanno a cercare un lavoro e nel giro di poco tempo magari vengono anche bistrattati, licenziati anche attraverso l'abolizione dell'articolo 18 e di tutte quelle garanzie che la Costituzione aveva affermato. Da questo punto di vista inoltre è importante richiamare l'attenzione dei giovani, giovani i quali devono in qualche modo avere una coscienza politica, una coscienza formata. E per questo motivo ecco qui la mia candidatura, per dare anche una possibilità di dire ai ragazzi, ragazzi, formate le vostre coscienze politiche. Allontanarsi dalla politica significa disinteressarsi e se una persona non conosce non può neppure tutelare i propri diritti, i propri valori. Quindi bisogna tornare a cercare di informarsi, di partecipare attivamente alla politica per cercare anche di capire cosa sta succedendo nel quadro non soltanto gelese, siciliano, ma anche nazionale e non solo perché alcune volte i giochi non vengono fatti soltanto qui ma anche altrove. Quindi ragazzi tornate a informarvi perché bisogna pensare con la propria testa. Il progetto c'è una politica per il territorio e per l'ambiente, quindi da questo punto di vista cercare di andare a risanare la distruzione totale che si è avuta grazie a Renzi e creare delle prospettive lavorative in questo territorio, risanarlo e avviare un processo di lavoro per tutti i giovani. Il SAP tra incertezze e precariato, il Cobasco Odir ha organizzato un incontro con i lavoratori nei locali della zona industriale per stabilire le proposte da presentare alla regione. Diverse le criticità riguardanti l'ex consorzio ASI, dal precariato del personale ai dipendenti dell'ex EAS fino all'indotto. A breve sarà chiesto un incontro con l'assessore regionale all'attività produttive Mimo Turano per discutere del futuro dell'ente. Siamo qui per accendere ancora una volta i riflettori sulle tematiche dell'IRSAP, sono varie questioni che devono trovare una soluzione, tra questi l'inserimento di quello che deve essere il futuro stesso di questa struttura, della legge di riordino che fu emanata circa sei anni fa e che ancora oggi non ha visto luce concreta. Per cui siamo ovviamente preoccupati e vogliamo che il nuovo governo, la persona del Presidente Nello Musumeci e dell'assessore Turano abbiano questo confronto diretto con noi e le parti sociali affinché di così possa un attimino fare il punto di questa situazione. Dobbiamo capire la politica cosa desidera fare di questa IRSAP e se rilanciarla e quindi mettere nelle condizioni anche ai vari imprenditori nazionali e internazionali ad adoperarsi per il nostro territorio e soprattutto attenzionare l'indotto che in questi anni ha sempre dato un suo fattivo contributo e il personale. Abbiamo personale dell'ex EAS che deve essere inserito ancora addirittura in impianto organica come il contratto a tempo determinato. Responsabilmente vogliamo dare, come abbiamo sempre fatto il nostro contributo e speriamo in tempi brevissimi di avere l'incontro con la politica, con l'assessore e ovviamente col Presidente della Regione affinché possiamo noi tranquillamente confrontarci e risolvere le questioni. Non ultimo, non dimentichiamo, c'è anche il contratto dei dipendenti scaduto da 12 anni nell'ambito della Regione, economico e giuridico. Nello Stato già il prossimo mese troveranno i soldi in busta paga con i relativi arretrati e anche le forze dell'ordine due giorni fa hanno siglato l'accordo contrattuale e manca soltanto quello dei dipendenti della Regione. Noi siamo insieme alla politica, vogliamo dare il nostro fattivo contributo come abbiamo sempre dato, però la politica faccia un attimino mente locale, si impegni e cerchi di venirci incontro. C'è un lassismo caratterizzato da un inquietante silenzio delle istituzioni regionali nei confronti dell'area di crisi complessa di Gela, rimasta a zoppa in mancanza dell'accordo di programma strumento necessario che viaggia con almeno 18 mesi di ritardo nell'essere elaborato, argomentato, studiato ed infine, se condiviso, siglato al Ministero dello Sviluppo Economico. E quanto denunciano le segretarie confederali CGL Cisle Will della provincia di Caltanissetta assieme alle segretarie confederali, le sigle sindacali non hanno nessun potere normativo nel siglare l'accordo di programma, ma svolgendo un ruolo sociale non possono limitarsi alla denuncia di ciò che non si è fatto per responsabilità diffusa delle istituzioni politiche, chiedendo un incontro, confronto urgente ed indifferibile al nuovo Presidente della Regione, Nello Musumeci. CGL Cisle Will hanno urgenza di consegnare al nuovo Governatore le criticità, ma anche le potenzialità dell'intera provincia di Sena, individuando nella fase di riconversione Eni una opportunità per il territorio, ma ciò può essere così vissuto solo individuando percorsi economici virtuosi ed immediati, ritenendo il fattore tempo di primaria importanza, così come lo sarà l'impegno finanziario della Regione per l'accordo di programma. In questi due anni, dicono i segretari generali regionali e provinciali Pagliaro, Milazzo, Barone, Giudice, Gallo e Castania, siamo stati vittime di chiacchiere vuote a danno dei lavoratori e delle imprese. Le sigle sindacali intendono consegnare i disagi infrastrutturali che indeboliscono il livello di attrazione per piccole e medie imprese e per potenziali holding del turismo interessate alle aree interne della Sicilia. Siamo, chiude la nota, propensi ad accettare la sfida della crescita economica basata sull'industria, ma anche sulle infrastrutture veloci e la grande opportunità data proprio dall'industria croniquina, e cioè il turismo. Rosalba Pambini, commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, a fine mandato dopo circa due anni, è stata la relatrice dell'incontro organizzato da Lucid di Caltanissetta, nonché l'Unione Cristiana e Imprenditori Dirigenti, dal titolo tra province e liberi consorsi, future prospettive dell'ente intermedio. Una questione dunque particolarmente attuale al centro dell'evento svoltosi nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio 2018. C'è stata la proposta del presidente Musumeci di tornare all'ordinamento delle vecchie province e alla loro organizzazione. Si aspetta a questo punto la decisione della consulta del Consiglio di Stato, che dovrebbe essere messa entro il mese di giugno, per vedere se viene accolto appunto il ricorso, che è stato presentato già dal precedente presidente Rosario Crocetta, e che è stato riproposto dall'onorevole Nello Musumeci, attuale presidente della Sicilia, che ha una consolidata esperienza nell'organizzazione e nel coordinamento delle province, essendo stato lui stesso per due volte presidente della provincia di Catania. Allora, quali sono le prospettive? Siamo in attesa appunto di vedere se venisse accolto questo ricorso, questo appello del presidente, Nel qual caso si torna alla vecchia Costituzione e istituzione di questi enti di aria media, ma che sono fondamentali anche perché hanno una lunga storia e che affonda le radici prima ancora del 1861, ossia della Costituzione del Regno d'Italia, ma che ha avuto una lunga, altrettanto lunga storia, con alterne vicende e con alterne, devo dire, anche perdite di risorse economiche e di personale e si aspetta che oggi ci possa essere una nuova luce su questa ente che veramente ha una rilevanza territoriale, strategica e fondamentale. Lucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, sezione di Caltanissetta, ha iniziato questo percorso per comunicare quali sono le finalità preposte di questa associazione che non ha fini di lucro, è un'associazione apolitica e che ha come scopo quello di divulgare tra i propri iscritti, ma anche tra coloro che fanno imprese e sono dirigenti, quelli che sono anche i principi della Chiesa, principi morali, principi etici. Ed è per questo che Lucid, grazie all'agenzione e concessione del nostro Vescovo, Sua Eccellenza Mario Russotto, ha sede qui nel Vescovato di Caltanissetta e la nostra guida spirituale è padre Calogero Panepinto. Come assistente curo non solo la formazione spirituale dei soci, ma anche e soprattutto la formazione che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa, che è come il Vangelo per la società. La stasera la compagnia Antidoto in scena con S. Capitassa Tia, commedia in due atti di Nino Di Maria, di che cosa parla? Insomma, il tema è reale, cose che succedevano e succedono. Si parla di tradimenti, i tradimenti uguali corna, e perciò la commedia, come di solito, il nostro curriculum teatrale ci porta ad essere l'antidoto e con una commedia divertentissima di Nino Di Maria, e se capitassa Tia la storia di un sindaco che è una persona che cerca di inculcare al fratello quello che se succedesse è un fatto di corna si dovrebbe andare per via legale, il divorzio, e poi se capitassa Tia il resto della commedia lo dovranno vedere le persone al 31, l'1 alle 21 e 30, e poi c'è anche il domenicale alle 18, questo lo dobbiamo ricordare perché c'è tanta gente che magari la sera col fretto non può uscire e noi gli diamo la possibilità, domenica giorno 4, di essere qui a teatro con noi e se capitassa Tia. Quindi una commedia su cui riflettere ma anche su cui ridere parecchio? Innanzitutto su cui riflettere perché poi tutte le commedie raccontano la vita, lo sappiamo, e poi del resto la gente, lo ripeto sempre, in ogni situazione, in ogni intervista, la gente si vuole rilassare almeno un'oretta e mezza per dimenticare i problemi che a tutti a volte ci affliggono. Comunque noi i problemi li possiamo togliere, per un'ora e mezza possiamo fare e dimenticare. Poi la commedia è divertente, tu vieni, Antonio Burgio verrà pure, è giusto? Questa è la locantina, è se capitassa Tia, la gente penso che lo sa. E poi i biglietti ci sono, sempre, perché la gente dice esaurite, le esaurite ne ha sempre. Ricordiamo gli appuntamenti e rivolgiamo un invito ai telespettatori. Allora, intanto il botteghino è già aperto, diciamo dalle 17 e poi è già aperto, il 31 che sarebbe oggi, domani alle 21.30 e poi domenica 4 alle ore 18. Per tutti i biglietti ci sono, lo ripetiamo sempre, perché poi con l'antidoto è sempre Chino. No, comunque i biglietti ci sono e poi sì ci sono, perciò venite a divertirvi, vi dico a divertirvi e se capitassa Tia. Iniziano oggi presso la Chiesa di Sant'Agostino alle 18 e i 7 mercoledì di San Giuseppe in preparazione alla solennità del Patrono della Chiesa Universale che vedrà la partecipazione di coloro che hanno intenzione di allestire le tradizionali cene di San Giuseppe. Domani inizierà anche la pia pratica dei 15 giovedì di Santa Rita con le celebrazioni eucaristiche delle 9 e delle 18, venerdì festa della presentazione di Gesù al Tempio la Candelora presso la Chiesa di San Francesco di Paola. In quell'occasione verranno benedette le candele e subito dopo si snoderà la processione verso la Chiesa di Sant'Agostino. Seguirà la celebrazione eucaristica assieme alla comunità parrocchiale di San Francesco d'Assisi. Domenica alle 18 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da Monsignor Antonino Rivoli, vicario generale della Diocesi di Piazza Armerina. Quarantesima giornata per la vita, sono tante le iniziative in programma Gela promosse dai gruppi Famiglia, Centro Aiuto alla Vita ed Associazione Gela Famiglia. Domani 1 febbraio alle 18 nella parrocchia Sant'Agostino celebrazione eucaristica. Subito dopo seguirà la processione verso la Chiesa San Francesco di Paola per la preghiera di adorazione eucaristica. Sabato 3 febbraio alle 10 visita alla Casa di Riposo ai Girasoli e alle 16 visita alla Residenza Sanitaria Assistita di Caposoprano. Domenica 4 febbraio alle 18 celebrazione eucaristica nella parrocchia San Sebastiano prevista anche la benedizione delle mamme in attesa. La sottosezione dell'Unità Alsi di Gela in occasione della ventesima giornata mondiale del malato come ogni anno si prepara a rendere omaggio alla Madonna di Lourdes con le varie celebrazioni in programma. Venerdì 2 febbraio alle 10 si terrà la celebrazione eucaristica presso la cappella dell'ospedale Vittorio Emanuele preseduta da donna Filippo Salerno. Seguirà la processione eucaristica in corsia. Sabato 3 febbraio alle 15 celebrazione eucaristica presso la Casa di Riposo Antonietta Aldisio preseduta da donna Rosario Sciacca assistente spirituale dell'Unità Alsi di Gela. Domenica 4 alle 15 celebrazione eucaristica e processione nei reparti presso la Casa di Cura Santa Barbara. Domenica 11 febbraio alle 17.30 le celebrazioni si concluderanno in Chiesa Madre con la recita del Santo Rosario. Alle 18 celebrazione eucaristica preseduta dal parroco don Vincenzo Cultraro. Per l'occasione saranno presenti le associazioni di volontariato. Piccoli crimini coniugali con Michele Placido ed Anna Bonaiuto appuntamento al Teatro Comunale Eschiro di Gela per giovedì 15 febbraio alle 21.15 il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Telefoni 0933 91 18 92 345 58 80 580 Grazie a tutti i giorni di Gela.